Allora, abbiamo cercato, come avete visto, di farvi ambientare un po' nel mondo delle fiave, però, come avete già notato, le fiave non sono più quelle di una volta, le abbiamo un pochetto trasformate. Non è facile da comprendere, però posso garantire che è assai divertente. Se vi ricordiamo ora, possiamo procedere con un piccolo assaggio, quindi con una delle nostre fiave, ovvero caschetto rosso, e ci leggerà una francesca.